Una delegazione del Dipartimento di Salute Mentale di Los Angeles è in visita a Trieste e a Gorizia. Professionisti sanitari, ricercatori e docenti universitari, responsabili di enti pubblici ed associazioni impegnati in un processo di innovazione istituzionale, hanno incontrato i responsabili dei servizi di salute mentale di Asugi. Fra i componenti la delegazione è anche Patrick Kennedy, figlio di Ted e nipote del Presidente, che così riassume la situazione per certi versi drammatica che si riscontra negli Stati Uniti. È gravissimo che negli Stati Uniti le persone con problemi di salute mentale vivano in una situazione così drammatica, perché pensiamo sia colpa loro se vivono per strada, continuiamo a pensare che una persona affetta da dipendenza scelga di vivere in modo miserabile. Dipendenza e malattia mentale non vengono considerati appunto una malattia, bensì un fallimento morale. Tutto ciò deve cambiare e siamo a Trieste per apprendere come trattare la gente con dignità. Ovviamente al centro dell'incontro è stata la rivoluzione basaliana e la possibilità di introdurre determinate buone pratiche anche oltreoceano, ovviamente tenendo in considerazione le differenze non solo di impostazione fra i due paesi. Io penso che questa sia una storia che deve evolvere, ha a che fare con bisogni di salute che si modificano nel tempo, una società completamente diversa, ne abbiamo discusso oggi e quindi in quella direzione dobbiamo andare. Quindi è importante raccogliere e studiare le esperienze che ci sono state e altrettanto è importante farle evolvere rispetto ad una condizione di bisogni di salute che si sta modificando nel tempo. Non è la prima volta che i servizi di salute mentale di Asugi sono oggetto di studio e di visite e del resto il sistema triestino e goriziano è riconosciuto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità quale centro collaboratore, segno che quell'esperienza sviluppatasi 50 anni or sono è ancora valida. Un'esperienza che è costata nel tempo, che richiede un'organizzazione per reti, richiede l'integrazione con associazioni, con cooperative, quindi non è un modello facilmente realizzabile se non con tempo e lavoro. Grazie a tutti.